Io sono Fabio Caressa e a farmi e farvi compagnia ci sarà anche Luca Marcheggiani. Un saluto a te Fabio e a tutti i telespettatori. Spero di assistere a una partita piena di gol e spettacolo. Vuole il lancio piltrante. Tiago! Una buona iniziativa ma non è bastato. Nessuno dei compagni poteva arrivarci. E' il gol del Milan. Onda di forza. Cross di Perotti. Contrasto irregolare e dunque calcio di punizione. L'arbitro lo chiama cartellino giallo. Si è ricordato nonostante il vantaggio. Anticipa bene. Intercetta la rimessa. Tenta l'affondo sulla destra. Buona la sua progressione. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. Nengolan. Primo tempo che finisce qui. Merito alla squadra per il vantaggio conquistato a metà gara. Determinante il centrocampo che ha dato granuto alla difesa. Prova la conclusione. E non trova la porta davvero per pochi centimetri. E' uno che non si fa mai pregare quando si tratta di tirare in porta. Se c'è spazio a sufficienza però fa bene a provarci. Il punto della ballerina. Solta e colpisce di testa. Ci mette una pezza. Sono alla ricerca di uno spunto per far male agli avversari. Colpisce. Grande respinta del difensore. Un'altra conclusione. E c'è la rete. Ora doppio vantaggio per lungere. Male la difesa. Non puoi concedere occasioni del genere all'avversario. Devono fare più attenzione. Non possono lasciarli arrivare a un passo dalla porta. Andrea Bertolacci porta a casa la terza rete della stagione. Ha calciato forte. Il portiere si oppone. Passuro in balzo. Tiro lento. Non può creare il proprio portiere. Da questi rimenti devi stargli addosso, incollato. Non puoi permetterti di perderlo. Ottiene un buon calcio di punzione. Attenzione all'arbitro che sa il cartellino. Giallo. È giallo. E il pallone in rete. Che gol pazzesco. Cross verso il centro dell'area. Prova verticalizzata. Una disposizione del mister. C'è la palla lunga. In avanti. Florenzi. E ha calciato alto. Ci stanno provando. Un po' da tutte le posizioni. Evidentemente non vogliono ancora darsi per vini. Adriano. Ottimo intervento. Manolas. È davvero una bella serie di passaggi questa. Cerca la fondo. Palla al piede. Esce Raui. C'è il fischio dell'arbitro. È fallo. E qui si scaldano gli animi. È una partita intensissima. Attenzione. Attenzione. Qui c'è una rissa. E fallo. E qui si scaldano gli animi. È una partita intensissima. Attenzione. Attenzione. Qui c'è una rissa. Totti. E il portiere ci arriva con la punta delle dita. Desciglio. Interessante azione sulla fascia destra. Ecco Isharawi. Totti. Allarga sulla fascia. Sulla fascia. È libero. Riesce ad intercettare. Palla in out. Ci sarà rimissale. Andrea Bortolaci. Con il lancio in avanti. E passa. Prova la giocata dello spazio. Bell'intervento. E l'arbitro dice che non va. C'è un fallo. Bruno Peres. Totti. C'è fallo. L'arbitro vi si avvicina. E può starci il cartellino. Che infatti arriva. Giallo. Il Milan ha adesso due giocatori muniti. questo è un classico esempio di mancanza di lucidità. Questo fallo. Intervento al limite. Ma mi è sembrato regolare. Ci mette il fisico. E conquista il pallone. Nainggolan. Prova il filtrante. E il Sharawi. E il portiere dice di no. Avversario. Calcio di punizione. Posizione interessante. E manca poco al termine. Va di testa. Non c'è più tempo. Finisce qui. Una grande prestazione offensiva. Hanno messo in enorme difficoltà i difensori avversari. Questo per loro è un giorno di festa. Il gol iniziale è stato decisivo. Per loro l'incontro si è messo subito bene. E gli avversari non hanno avuto la forza di rimontare lo svantaggio. È davvero tutto. Se per averci seguito in questo...